Maggio Maggio, la fioritura, la coca dei radodendri accoglie tutti gli ospiti dal nord Italia e non solo. Un luogo magico che però si confronta anche con dei grandi temi, quello dei cambiamenti climatici, che in particolare hanno avuto un impatto sulle abetine. L'armonia tra uomo e natura è essenziale, ma non basta guardare all'oggi ma al futuro. Ecco perché abbiamo deciso di accogliere la certificazione FSC non solo come una tappa del nostro percorso, ma come una visione futura di come continuare a mantenere questo luogo dove l'impresa, l'uomo, la natura e tutto l'ecosistema convivono per il benessere di ognuno di noi.